La domenica delle palme è il segno dello spezzatino della ventottesima giornata nel campionato di eccellenza. Unico campo in campo ed è quello del Madonna Grande di Nuova Criteria dove il Macchia, la leadership del campionato, passa con un poker 4-0. Un anticipo ieri e poi in campo oggi per l'eccellenza. Soltanto una partita, due squadre a rappresentare praticamente le otto in una giornata dove c'è tantissima sosta. La macchia che si presenta in campo nella migliore formazione, Panico alla caccia del gol. Lo trova dopo tre giri di lancetta, dopo che in un primo momento De Benedictis gli aveva fermato la prima conclusione sulla ribattuta. E bravo il capocannoniere del campionato di eccellenza a trovare il gol. La Criteria non ci sta, fa una buona gara soprattutto nel primo tempo e cerca il gol del pareggio subito con Gabsy. La sua conclusione in corsa, trova un Biasella più che mai attento e reattivo nella conclusione. Ma la marcia inescata da Panico e micidiale mette a sedere De Benedictis e trova il 22esimo. Il gol del 2-0, quello che consolida praticamente il risultato a metà del primo tempo. Ancora in profondità per Panico, questa volta De Benedictis gli dice di no con la punta del piede sinistro. Va a deviare la sfera in calcio d'angolo. Succede poco nella prima frazione del gioco, oltre ai due gol già raccontati. Nella ripresa un macchia totalmente diverso, abbassa la testa e soprattutto la squadra. Gioca per Panico che vuole cercare la via del gol, che invece trova il nono con il sinistro in corsa. De Gregorio per il gol, quello che consolida praticamente il 3-0. Ma abbiamo detto di una criterina buona in campo che rispetta praticamente l'andamento stagionale di una squadra che si è sempre battuta per fare la sua nesta figura. Qui Gaspari in corsa in diagonale, trova un Biasella più che mai attento. Ancora Panico, questa volta il suo micidiale destro si infrange sulla traversa e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco, ma sul lungo rinvio da parte di Biasella. Pallone lungo in avanti, Panico si può involare, presentarsi a tu per tu con De Benedictis e farlo secco. Il gol definitivo, quello del 4-0, quello che regala praticamente la tripletta al capocannoniere del campionato. Ci prova nel finale con Regoli, con una conclusione non troppo mirata, con la sfera parata tra l'altro da Biasella. E poi nel finale è ancora il Macchia che cerca la via del gol, ma De Benedictis in due occasioni va a negare praticamente la gioia del gol all'attaccante Giordano. Finisce con la vittoria importante del Macchia che continua lo scoro in vetta alla classifica passando sul rettangolo del Madonna Grande della Criterlina per 4-0.